La cellula animale è rivestita dalla membrana cellulare. La membrana cellulare serve per far passare le sostanze nutritive e far uscire i rifiuti. Il citoplasma è una sostanza gelatinosa che contiene tutti gli organelli. Il reticolo entoplasmatico contiene una buona parte dei ribosomi. I ribosomi sono gli organelli che elaborano le proteine. L'apparato del Golgi sono sacche che forniscono sostanze nutritive. Il citoplasma è l'organolo che serve per la riproduzione della cellula. I ribosomi sono le simpienze con gli enzimi che digeriscono i cibi. Il nucleo è il vero centro che dirige tutte le attività della cellula. La membrana del nucleo riveste il nucleo e lo separa dal citoplasma. I mitocondri sono le centrali energetiche della cellula.